Da oggi Fano sarà dotata di quattro nuovi defibrillatori dislocati in tutta la città. Questa mattina nella zona del Pincio è stato inaugurato il nuovo apparecchio donato dal Rotary Club Fanese, realtà molto sensibile ai temi sulla tutela alla salute. Le postazioni saranno ad accesso pubblico 24 ore su 24, a portata di chiunque e in tutte quelle occasioni di necessità ed emergenza. Le location sono oltre qui al Pincio, nelle vicinanze degli ex bagni pubblici, ce n'è un altro collocato nel parcheggio antistante la Rocca Malatestiana e uno in piazza Costanzi di fronte alla tabaccheria. Poi ce ne sarà uno che speriamo a breve verrà collocato nella piazzale antistante la stazione ferroviaria di fronte alla farmacia comunale che è in attesa del nulla osta da parte delle ferrovie. In tutta la nostra città, ha commentato Barbara Brunori, siamo arrivati a quota 100 defibrillatori presenti lungo le spiagge, nei campi sportivi, negli istituti scolastici e uffici di aziende private e anche nei mezzi della polizia locale di Fano. L'assessore ha inoltre ricordato che tutti i defibrillatori devono essere comunicati all'associazione Fano Cuore. Fano è una città di cuore perché abbiamo una rete di associazionismo diffuso che mette al centro la rete del dono. Anche in questo caso il Club Rotary di Fano ha donato alla città quattro defibrillatori automatici che saranno a disposizione delle piazze è sicuramente un dono prezioso perché ricade sulla salute di tutti noi e oltre questo ha un'importanza proprio di civiltà per la nostra città. Avere una città al sicuro significa veramente mettere a disposizione anche questi dispositivi. Un apporecchio alla portata di tutti efficace per la lotta all'arresto cardiaco improvviso. Nella giornata di sabato 2 luglio l'associazione Fano Cuore ha organizzato dalle ore 18 alle ore 21 un appuntamento per informare e formare i cittadini sull'utilizzo del defibrillatore. I punti individuati sono Piazza 20 Settembre, Piazza Costanzi, Pincio e Giardini della Rocca Malatestiana, Piazza Fratelli Rosselli, Zonalido e Sassonia. Il funzionamento del defibrillatore semiautomatico è estremamente semplice. Basta accenderlo, dei comandi vocali guidano passo passo chi lo sta utilizzando al corretto utilizzo e sulle piastre sono indicati i punti in cui vanno applicati. Quindi bisogna solo accenderlo, seguire le istruzioni e premere il pulsante quando l'apparecchio lo dice. L'uso del defibrillatore è estremamente sicuro perché eroga la scarica elettrica esclusivamente se riconosce quella situazione che ha determinato l'arresto cardiaco e che lui può risolvere con la scarica elettrica, altrimenti non fa erogare nessuna scarica. Quindi scariche inappropriato non se ne possono dare. L'intervento deve essere tempo estivo, è importante intervenire. Più presto si interviene e maggiore è la probabilità di salvare una vita.